Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'anno scorso, due anni fa, li guardavo in televisione come degli idoli. Facciamo una promessa agli amici di Varesotto.it sul Giro d'Italia. Tuo? Vi posso promettere che sicuramente cercherò di dare il massimo per portare a casa una o due vittorie in volata con Giacomo e di portare a casa anche, perché no, una bella fuga e magari un bel risultato personale. Da pochi giorni c'è ufficialmente il tuo fan club. Facciamo un invito a associarsi a questo gruppo di sostenitori che saranno presenti in molte tappe del Giro. Sì, in particolare si troveranno la tappa di Varese, la 18esima e il 28 maggio in piazza Montegrappa dove passeremo e spero sarete in tanti a supportarmi e a fare il tifo per me.